ok vediamo un attimo se siamo collegati secondo sì mi pare di sì comincio a vedere che sta caricando sì sì bene 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 perfetto siamo partiti fantastico o cecilia ciao cara ilaria carissima bene bene perfetto bene bene sta andando che ce l'abbiamo fatta roberta vince come va è somma ma diciamo che va dai va un po di problemini ma speriamo di risolverli tutti rita carissima ciao ciao paola salvatore carissimo un abbraccio mandami tanta energia che ne ho bisogno ciao valeria ho letto il messaggio è provvederò non ho avuto il tempo di risponderti bene ho fatto un ok ma comunque domani con calma vado a vedere ilaria maddalena benissimo stiamo salendo fantastico ida cara ciao bellissima un grande abbraccio a te ida che voglia che ho di vederti che voglia che ho di vederti tu non hai idea di abbracciati di strappazzarti di coccole non vedo l'ora ida grande metafonista grande persona grande 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 cuore davvero fantastico gabriella benvenuta e va bene roberta è così la vita è così infatti stasera la diretta era ben a rischio è proprio a rischio a rischio fino all'ultimo perché ho avuto dei problemi in famiglia e quindi era un po preoccupata medici che andavano e venivano e quindi non sapevo come sarebbe andata e so che sono un po più tranquilla che è passato il medico riesco a fare magari non farò una diretta lunghissima perché voglio lasciare il telefono libero ma comunque non volevo lasciare tutti voi ovviamente nel limite del possibile senza questa diretta ecco perché so che è sempre attesa è sempre desiderata e quindi mi sento questa grossa responsabilità sempre sulle spalle andiamoci che pronta per le condizioni d'amore abbiamo avuto dei riscontri l'altra volta e devo dire anche l'altra volta veramente molto belli molto particolari mi hanno scritto privatamente qualcuno messo anche pubblicamente alla testimonianza da io quindi ringrazio sempre perché è molto importante per quelli che purtroppo non ricevono o peggio ancora che magari credo che questa cosa non sia possibile ecco perché insisto sempre non tanto per me ecco per me è una cosa soltanto per sapere che faccio le cose fatte bene è la lorenza ciao il dina bella tesoro un bacione grande 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 e tu sei perché al salvatore c'è spero l'unico no 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 solo quando sono anziane le mamme stanno male capito quasi 90 anni è sempre un problema no quindi non riesci sei poi lontano come in questo momento fare le cose a distanza di chilometri deve affidarti ai vicini di casa a quello che ti dicono al telefono insomma non stai molto tranquilla ecco purtroppo è così però pare che non sia nulla di grave adesso gli ha dato le medicine vediamo un po come va vediamo un po come va comunque tu salvatore manda energia manda energia la mia mamma manda regia me ne abbiamo bisogno ciao angela cara eh sì è proprio così va bene da un po il tempo che stiamo caricando al ciao alberto stiamo caricando tutto si vedono i commenti speriamo che non faccio come l'altra volta che sono come si dice che sono scomparsi tutti tutti come non vedevo niente continua a vedere entrare sulle entrate ma nessun commento ciao in ida anch'io e anch'io ti abbraccio caro si davvero sempre sempre sono anche proprio mi sei rimasta nel cuore davvero angela cara bene baciasi si anna ciao eccomi qua ce l'ho fatta perché l'anna si preoccupava perché mi ha chiamato e ho detto guarda sono tribulata adesso veramente sono più tranquilla perché ho provato col medico quindi sono un po più tranquilla ok si sente bene d'accordo vediamo un po lui sapete che non si possono fare richieste noi riceviamo sempre siamo aperti diciamo come connessione a chi può venire ovviamente ciao ludovica bella ciao cara noi lasciamo aperto così chi può venire e può lasciare un messaggio lo lascia e tanto poi sapete come funziona no ciao patrizia ciao carissima siamo un po lontanine questa volta paola casa fusco ciao carissima che piacere è bello perché vedo delle persone che ho conosciuto in vari convegni tanti anni fa e vedo che comunque mi seguono a distanza di anni anni veramente questo mi fa veramente piacere ma lei dice nuovo look sì ho tagliato i capelli ho fatto ho lasciato fare il parrucchiere se quando dici al parrucchiere fai fai tu ecco vuol dire ritornare i capelli però sono contenta perché sono pratici specie in estate capito che fai tanto dentro fuori mare doccia su doccia è molto comodo così davvero se sempre in ordine non stai delle ore col phon che io una cosa che odio sta lì mi fa le piega col caldo poi non si sente niente stupendo mi dice ludovica che non si sente niente io ce l'ho al massimo del volume non so se voi mi sentite bene ditemelo prima che inizio la diretta perché voglio essere tranquilla se si sente bene l'audio perché per me l'audio è una cosa molto molto importante grazie anna grazie mille è un periodo che le mie vecchiette mi stanno facendo un po tribulare mia mamma mia suocera sì sì devo dire la verità insomma gli anni passero passano e e purtroppo è così tutto bene con i capelli corti bene meno male meno male meno male bene io direi di partire è così perlomeno vediamo un po come come va se fa fresco da me mi dice roberta no per niente però io c'ho l'aria condizionata e quindi riesco a sentire un po più fresco per quello però non fa per niente ottimo audio si sente benissimo quindi cara ludovica guarda il tuo telefonino se per caso l'audio è basso perché tutti dicono che si sente molto bene quindi anche ornella dice forte chiaro bene benissimo ok bene 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 allora io direi di di cosa partiamo che dite partiamo benissimo allora come sempre chiedo di partecipare perché sapete che voi non siete fuori da questo discorso nel senso che la vostra energia ha comunque un suo perché e quindi io chiedo sempre a tutti voi ok dovete che ho risolto sono svempita mi fai troppo ridere e comunque nessun problema e volevo dirvi che io avevo sempre detto che importante anche la vostra la vostra energia non solo la mia no quindi tutti assieme dobbiamo fare come una specie di grande abbraccio d'amore un grande una grande onda d'amore energetica e su questa onda riusciamo a incontrare elevarci abbastanza per poter incontrare la loro energia ecco questo è perché noi siamo energia quindi questo è per quello che chiedo sempre chi ha fede preghi chi non ha fede basta che faccia comunque un attimo di raccoglimento anche di proprio di vuoto mentale no senza nessuna aspettativa lo so che non è facile accantonare il dolore come per esempio anche stasera devo fare lo stesso lavoro perché comunque da una parte sono un po preoccupata quindi però so che questa cosa potrebbe influenzare negativamente quello che faccio quindi devo assolutamente eh fare un vuoto mentale no quindi per un momento accantonare tutti i miei problemi e diventare mezzo quindi diventare mezzo bisogna assolutamente essere liberi dalle aspettative ok bene 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 allora io partirei eh facciamo la prima con la col fushio perché solo per assestare un po l'energia poi sapete che più andiamo avanti più si stabilizza ok quindi stasera non parlerò tanto faccio solo diciamo il contatti perché così possiamo finire prima e riesco a liberare prima il telefonino se ho qualche chiamata qualche bisogno allora bene partiamo ok io faccio sotto fushio faccio passare lo sapete vero la mia vera super computer e si crea quel fruscio su cui loro possono comporre le parole vediamo un po allora salva progetto vediamo un attimo se siamo connessi allora faccio sempre lo dico per nuovi arrivati ovviamente un piccolo ampliamento e rallentamento perché queste voci hanno la caratteristica di essere molto veloci e quindi per renderle più udibili è necessario soprattutto perché chi ascolta non è ovviamente un metafonista quindi ha una difficoltà in più io comunque cerco sempre di far sentire proprio per principio e quindi cerco sempre di far sentire pezzetto pezzetto quello che si sente poi magari non tutti sentono però è giusto così vado ok allora dice o si si sente o si o si subito allora o si ok e poi sentiamo o si o si sentite o si ok vediamo cosa vogliono dire o si poi dice lei sta bene va bene se stanno parlando della mia mamma penso lei sta bene speriamo lei sta bene ok lei sta bene sentite lei sta bene ok vogliono tranquillizzare sanno che sono un po agitata ok allora qui c'è piero e alberto allora aspettate allora qui c'è piero e alberto ok io ovviamente dico tutto quello che sento poi chi ascolti messaggi deve sempre ricordarsi che deve riconoscere il messaggio o dal nome chiaramente se dicono il nome non è ovvio oppure se dicono delle cose particolari in cui le persone si ritrovano quindi non è obbligatorio che diano il nome possono anche non darlo però se fanno come l'altra volta hanno detto delle fatto dei riferimenti su un disco un libretto e c'è era un riferimento preciso quindi dando dei riferimenti precisi e poi se mi date se riuscite a darmi la conferma mentre lo sto facendo chiaro che magari posso chiedere qualcosa in più posso creare più connessione ovvio no quindi se mi date la io riesco a vederlo riusciamo allora qui c'è piero e alberto ascoltate qui c'è piero e poi e alberto alberto sentite alberto sentite allora qui c'è piero e alberto va bene quindi sono due nomi ok un attimino poi allora un attimino allora dice qui non la vedo quindi probabilmente sta dicendo qui non la vedo ci sarà un motivo allora qui non la vedo può essere un riferimento può darsi ok qui non la vedo può anche darsi una persona che magari prega poco e quando c'è qui non la vedo come non vede le preghiere ovviamente non le persone le vedono loro e come ok qui non la vedo sentite ok quindi sta facendo forse un ragionamento vediamo un po' ancora quello dopo cos'è poi c'è una pina 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 cara si sente pina cara pina cara pina cara sentite bene pina cara ok vediamo un po' si dice qualcos'altro pina cara lui è lui è pina cara lui è forse pina intende qualcuno che di qui è pina cara come se dicesse pina cara tu non credi ma lui è lui è pina cara lui è quindi penso che sia un riferimento a qualcuno di qui pina cara lui è ascoltate pina cara lui è pina cara lui è ok perfetto pina cara lui è va bene un attimo allora qua l'andrea poi c'è un'andrea qua l'andrea andrea andrea qua l'andrea è finita la registrazione adesso diamo molto spazio però sono belle foto le energie qua l'andrea ascoltate no qua l'andrea ascoltate ok ed è finita la registrazione qui un sacco di nomi e ci sono qua è uno dietro l'altro proprio è sto riguardandolo allora c'è piero alberto poi dice qui non la vedo quindi come è qui non la vedo pina cara lui è quindi questa cosa mi fa pensare a qualcuno che non è che in ascolto poi dice qual'andrea ok quindi c'è anche un'andrea però non ha detto è finita la registrazione quindi diamo altro spazio perché sapete che non faccio mai delle registrazioni lunghissime allora anche per loro basta insomma quello che faccio poi ne faccio un'altra non faccio un'altra quelle che sono necessarie adesso possiamo fare con la voce perché vedo che si è stabilizzato bene quindi ok chiedo questo andrea e se può dire l'ultimo messaggio andrea se può dire qualcosa io sono qua per ricevere senza problemi è lasciate i messaggi se potete dei riferimenti per cui possiamo riconoscervi grazie ok salve progetto allora benissimo questo lo facciamo con la voce che è un pochino più chiaro ancora un po' di più amplifica ok va bene ok poi invertiamo tutto famoso reverse va bene ci siamo vediamo un attimino se c'è qualche riferimento sui nomi qui qui c'è un piero potrebbe essere vediamo eh eh infatti è troppo poco sono ma ci sono due pieri vediamo un attimino se dice qualcosa se dicono qualcosa in più perché il problema quando si fa le dirette che sono in tanti no quando si fa privatamente lì non si scappa invece quando sei come adesso siamo 223 diventa un po' un problema eh è facile che magari se ne siano due se non dicono qualcosa in più diventa un problema proviamo dai allora mi dicono lo sai dicono lo sai vibrazioni devono essere qui perché io parlo sempre di vibrazioni no devono essere qui quindi che per poter parlare devono avere un certo tipo di energia ecco perché eh non tutti riescono a farlo no quindi vibrazioni devono essere qui ok sentite lo sai quindi tu lo sai ma io lo so che sono vibrazioni no che loro vibrano velocissime per quello che noi non riusciamo a vederli a sentirli no lo sai vibrazioni devono essere qui lo sai e poi vibrazioni devono essere qui vibrazioni devono essere qui vibrazioni devono essere qui ok andiamo avanti ok Allora mi dicono Ilde distingui Ilde distingui Le figlie dovrebbero essere là Quindi è un'indicazione Quindi probabilmente ci sono delle figlie Questi nomi Questo nome è forse il Piero L'ultimo che mi ha detto O Andrea Ilde distingui le figlie dovrebbero essere là Quindi ci sono delle figlie in ascolto Ok Quindi eccoci qua Ilde distingui Senti come si sente bene Ilde distingui Ok Poi dice le figlie dovrebbero essere là Le figlie dovrebbero essere là Le figlie dovrebbero essere là Quindi Questa è un'indicazione precisa Ok Quindi sono dei figli che sono in ascolto Il genitore di là Papà Ipotizzo Ok Andiamo avanti Allora qua c'è un Piero E il mio babbo Agostino è che c'è un papà Quindi questo potrebbe essere Ok Piero Se il nome ti torna È già qualcosa Ed è un figlio Quindi andrebbe già bene Sarebbero già due cose Ok Per avere il nome Non soltanto essere figli Deve essere anche il nome Vediamo Come Piero Che è il suo nome Allora va bene Per intenderci Vado avanti Vediamo Allora Dice Dice Ok Sappiate che lo faccio Ok Allora Allora Sente bene Meno male Allora 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 Ok Poi dice Qua Ascoltate Poi dice Ah io ricordarsi Ma è a ricordarmi Ovviamente Ah io ricordarmi Ricordarmi Sappiamo che loro Non usano più Per quello che delle volte Dicono le parole Non proprio A ricordarsi Quindi è ancora A questo Piero Sicuramente Come vedi Vi ricordo Ricordo tutti Va bene Quindi Ricordo un tutto Perché probabilmente La sua vita È abbastanza recente Quindi ricorda tutto quanto Ok E poi dice Io Io meglio qui Come per dire Io sto meglio Dove sono Io meglio Io qui Quindi vuole Tranquillizzare Suoi cari Che sta Bene Ok Io meglio Io qui Ascoltate Io meglio Io qui Ok Io meglio Io qui Quindi Magari Che ne so Ha morto di malattia Quindi è stato Sofferente E doloroso E faticoso E quindi vuole Tranquillizzare I suoi cari Che sta bene Ok Allora Qua dice Non so se C'era un caino Come per dire Forse un fratello Qualcosa Che C'era un caino Però non so dirvi Se è Chiaramente È relativo Il messaggio Il messaggio di Piero Quello dopo Perché chiaramente Qua la punteggiatura Non c'è Quindi io E come posso dirvi Dico tutto quello Che ricevo Ma non Non capisco Dove finisce Un messaggio A meno che non ci sia Un nome Dove inizia un altro No Quindi Questo qua C'era un caino Quindi Può essere Un'indicazione Ok Agostina dice Carobago Si era stato sofferente Ma il nome ti torna Agostina Perdonami Quello che volevo sapere O se non è Quel nome lì Che non è Così vediamo Secondo di quelli Che hai dato prima Io penso che sia Ancora il Piero E questo caino Mi fa pensare A un fratello Con cui non c'era Un buon rapporto Probabilmente Se fosse Legato a questa Ultima frase O può essere Qualcos'altro dopo Perché è finita La registrazione Adesso gli diamo Un altro spazio Ovviamente Ok Scusate se non rispondo Proprio Tutto Perché non riesco A vedere Segui tutte e due Perfesco Concentrami Allora Vediamo un po' Allora Piero corrisponde Anche a me Mia sorella Mannone Il nostro cugino Morto Punito Per strada Adesso vedo Altri nomi Che però Non sono arrivate Il nostro cugino Perfesco Perfesco Il nostro cugino È un buon già un buon riscontro, ecco quello che voglio dire quando sono tranquilli ovviamente così quindi grazie ho registrato tutto adesso chiudo e vediamo cosa c'è non penso che sia ok vediamo un attimo perfetto allora effetti mettiamo un bel 5 ok cambia tempo inverti ok diamo l'ascolto allora dicono noi aiutar noi vi aiutiamo per quello che possiamo e dice esteso come di lì come per dire come abbiamo cercato di aiutare quando eravamo sulla vita sulla terra cerchiamo di aiutare anche qui per quello che possiamo no? perché spesso questa è una domanda che tanti si fanno se loro riescono ad aiutare non possono aiutarci diciamo sulle cose del nostro destino ecco su questo non possono perché noi dobbiamo fare il nostro percorso e loro non possono intromettersi ovviamente tutti noi esteso come di lì ok esteso come di lì quindi che aiutano come sulla terra uguale cercano abbiamo un po' poi dicono oh dio adesso quando partono così quando fanno insegnamenti oh dio forse là fosse là come per dire che tante volte per le cose brutte che succedono a noi umani noi spesso ci chiediamo è vero se c'è veramente un dio come se dio potesse intervenire che non può farlo probabilmente dice oh dio fosse là come se dio potesse veramente intervenire in tutte le cose brutte che ci succedono oh dio fosse là ascoltate oh dio fosse là ok è vero tante volte ce lo domandiamo però è vero che non può essere il si blocca fantastico allora come facciamo è mai più di così cosa devo fare vediamo un po' spostiamo un pochettino ancora così vediamo facciamo un tentativo ok vediamo qua cos'è c'è un fulvio c'è un fulvio che bel nome qua qua fulvio qua fulvio qua fulvio però potrebbe essere aspetta un attimo un dubbio che non dice ah per fulvio allora può essere che fulvio c'è di qui per fulvio sì ok sì esatto qua zio ok qua zio qua zio ok qua zio ok 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 allora allora poi dice per fuglio qua zio lo sai di lì lo sai di lì lo sai di lì it's ok è ok sapete che il poliglottismo è una caratteristica della metafonia ogni tanto infilano qualche parola straniera che può essere inglese o francese però lo fanno per far dire che ci dite un ragionamento una mente pensante che non è una riproduzione casuale che tu fai una cosa la rovesci o in automatico viene tutto uguale no possono inserire una parola di senso compiuto ovviamente in inglese o francese e in questo caso dice per fuglio qua zio lo sai di lì it's ok è ok va tutto bene no allora quindi un messaggio sicuramente per qualcuno lo sai di lì it's ok ok it's ok it's ok è uguale va bene quindi va bene allora fuglio il fratello di piero ah ecco e fuglio qui con noi oh bene quindi questo è un bel riferimento quindi mi piace questa cosa perché ha dato due riferimenti quindi buono ottimo direi ottimo bene andiamo avanti c'è una elena 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 ok elena sentite elena elena ok vediamo se dice qualcosa già comunque elena è già un nome che bello è nella luce quindi sta mandando un messaggio per tranquillizzare è nella luce luce ovviamente è inteso come dio no ok allora è nella luce sentite come sente bene Elena è nella luce sentite bello Elena è nella luce ok 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 allora poi dice sogni qua poi come sogni scusate qua puoi ok sogni qua poi secondo me vuol dire che nei sogni può venire o forse già venuta nel sogno qualcuno questa elena è possibile sogno qua puoi come per dire che una cosa che è possibile magari è stata questa è magari un sogno è andato a trovare i suoi cari e quindi questo potrebbe essere un riferimento ok sogni qua puoi sogni qua puoi sogni qua puoi ok va bene va bene andiamo avanti ok portate pazienza intanto si blocca ma io vado avanti perché allora elena è nella luce sogni qua puoi quindi se c'è qualche elena io non so perché riesco a vedere tutto ok vediamo un po' e poi dice per vivere quindi un messaggio personale per per vivere bisogna avere i soldi quindi quindi probabilmente si riferisce a qualcuno che ha o forse lei in vita magari sta questa elena visto che è in seguito a lei ha avuto dei problemi economici no quindi ha avuto delle difficoltà e quindi dice questa frase per quello o può essere una frase per qualcuno chiaramente non conoscendo le vite vi sto facendo delle ipotesi è ma poi chi riceve il messaggio e il nome si riconosce sicuramente per vivere bisogna avere soldi senti come senti bene per vivere bisogna avere soldi eh sì quindi questo riferimento può avere un significato sicuramente no o per chi era di là o per chi è rimasto di qua però se lo dicono ecco bene poi bene poi ok poi qua dicono e fai veloce sì perché probabilmente c'è qualcuno che è in fila dice muoviti perché è vero no e come serve essere delle difficoltà a tenere questa vibrazione più di tanto no quindi la loro velocità anche di dare i messaggi anche è proprio dovuto a quello perché hanno poco tempo tempo non tempo a disposizione proprio energia a disposizione secondo me perché loro quando parlano con noi è come se rallentassero la loro vibrazione poter comunicare con noi e dopo un po' cercano di riprendere quota non ce la fanno ecco quello che voglio dire quindi ecco perché sono i messaggi così veloci i nomi riferimenti ecco quindi dobbiamo cercare noi di essere anche tanto veloci per capire ok allora mia mamma Elena è per me dice Anna Anna ma riconosci queste frasi qualcosa che ti torna di quello che è stato detto sono dei riferimenti precisi così giusto per capire se è possibile che è nella luce quindi una bellissima cosa ovviamente se aveva delle difficoltà di che tipo ecco se questo messaggio ha un senso compiuto per te ecco senza entrare nei particolari personali ecco basta sapere che ti torna quello che è stato detto no l'importante è che lei sia nella luce Anna questa è la cosa importante allora sentite dice e fai veloce ok qua e fai veloce sentite e fai veloce come di muoviti fai veloce ricordo a tutti che questa è la mia voce rovesciata ovviamente e poi dice lei sa che qui ti premiano lei sa lei sa che qui ti premiano come per dire chi nella vita ha avuto delle difficoltà dei dolori in cielo viene premiato ok quindi nessuna buona azione che noi facciamo cade nel vuoto no nella nostra noi siamo abituati su come per come viviamo noi che anzi quelli che si comportano male sono quasi elevati no gli va sempre bene lo vediamo tutti i giorni no e invece di là ci tengono a dirci lei sa che qui ti premiano quindi è un messaggio ok vediamo un po lei sa che qui ti premiano allora lei sa che qui ti premiano ok Anna Bari dice sì certo grazie difficoltà sono mie ok comunque guarda ti sta dicendo una cosa bellissima Anna ti sta dicendo lei sa che qui ti premiano come per dire che tutte le difficoltà che tu incontri nella tua vita che hai incontrato nella tua vita e forse incontrerai magari che poi la vita è lunga può succedere ancora però ti dice tutto non viene perso e tutto ha un premio qua ecco quindi non è una sofferenza fine a se stessa almeno in cielo c'è la giustizia ecco questo più di una volta me l'hanno detto devo dire e lei sa che qui ti premiano quindi se si torna a tutto sia il messaggio che è stato dato che il nome mi sento di dire tranquillamente che è per te poi devo dire una cosa delle volte se ci sono dei messaggi mi è capito l'altra volta che c'era un messaggio che andava perfettamente sia il nome che quello che è stato detto per due persone distinte ma non mi sono stupita nel senso che loro non sprecano energia quindi è inutile che ripetono perché è stata una casualità probabilmente su quasi 300 persone che l'hanno connesse è stata una casualità però il nome e anche il riferimento personale che ha detto che andava bene a tutte e due non è che il messaggio era per uno e da sbagliato prato andava bene per tutte e due semplicemente loro ottimizzano i tempi quindi non stanno a ripetere le stesse cose se il nome è uguale e il messaggio uguale in quel caso lì ne ha dato uno e va bene per tutte e due cioè noi dobbiamo svincolarci dal discorso personale perché qui è ovvio che ci sono delle difficoltà oggettive quindi è inutile che ce lo nascondiamo però quando cominciano a dire nomi, fatti e uno si trova poi non possono darti anche che ne so il codice fiscale quindi uno si deve anche un po' contentare perché dovete sempre immaginare capire da dove vengono questi messaggi da che dimensione arrivano capito quindi le difficoltà che ci sono quindi in questo caso se il messaggio il nome torna mi sento di dire io intendo che mi stanno aiutando certamente che ti stanno aiutando per quello che possono, l'hanno detto prima, loro aiutano sempre assolutamente è proprio così allora andiamo avanti lei sa che ti premiano? non mi ricordo se l'ho fatto sentire, lo faccio risentire lei sa che qui ti premiano? quindi ecco, messaggio di speranza per tutti ok ok andiamo avanti allora questo penso che sia la mia guida qui tengo una fila di nomi come per dire sono tantissimi qui tengo qui tengo una fila di nomi una fila di nomi qui tengo una fila di nomi ok quindi noi sappiamo le nostre difficoltà ma non sappiamo le loro ascoltate qui tengo una fila di nomi qui tengo una fila di nomi ok quindi tengo una fila di nomi ok va bene andiamo avanti grazie che mi avete dato la conferma subito in diretta vedete che chiede uno spazio no? qui tengo una fila di nomi poi dice spazio no? come per dire dobbiamo avere spazio no? per poter spazio ve lo faccio sentire spazio 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 va bene io sono partita subito è venuto eh ok va bene avanti ho detto ormai si tira sorte come per dire che sono talmente in tante non escono più a tenere una ormai si tira sorte come per dire non riusciamo a tenere una fila si tira sorte come noi quando si tira sorte per non fare ingiustizia quindi questo vi dimostra perché io sono da sola e devo comunque tenere testa a tutto e loro sono veramente in tanti ormai si tira sorte ok ormai si tira sorte ok va bene mi dispiace ma di più non posso fare vediamo adesso facciamo la registrazione allora perfetto chi fa metafonia sa tutto il lavoro che c'è dietro di alza sbassa togli le cuffie togli rimetti le cuffie alza bassa il volume c'è un lavoraccio pazzesco dietro tecnico quindi dai ancora altro spazio ok niente Anna figurati ci mancherebbe e dai se qualcuno ancora può può parlare può darci dei nomi di qualche riferimento noi siamo qui con tanto amore accettiamo tutto accogliamo tutti siamo felici comunque per tutti perché io ci tengo sempre a dire che questo è un gruppo familiare come posso dire ecco lo vedo così proprio un grande abbraccio d'amore per tutti voi come se la terra veramente il cielo si toccassero ok allora ok 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 Grazie a tutti. 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 Allora. Ok? Io spero di avere un attimo qui. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Telefono. Telefono. mia moglie. Ok? Ok? Ok. Ok. Paolo qui. Paolo è qui. Ok. Quindi un Paolo. Paolo è qui. Ok. 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 Un mondo si apre. da lui. Allietan. Allietan. sinistro. Ok. Ok. E poi? Ok. Ok. Grazie. sempre. Grazie. Ecco. qua. abbiamo registrato. Ok. Diego. Ok. 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 Poi. forse può dire, può darsi che non venga. andiamo avanti. e dice. a bacione. che da un bacione. è venuto. c'è un agnese. agnese. figlio. ok. 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 dice. è stato giusto. agnese. agnese. agnese fare. ok. anche adesso. adesso sicuramente. ringrazio. è sempre la famiglia. luce. luce. sono dei riferimenti. personali. capito. allora. 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 è proprio un'altra. con te. io. dovrebbe essere un'altra. hai. e poi. dice che c'è un'altra. è un'altra. spalle. ti dà un'altra. riferimento. l'altra. e poi. rituali. è un'altra. vi ringrazio. l'altra. vi ringrazio. grazie.